Oggi ho una lezione diversa e speciale per te, un esercizio che faremo insieme per esercitarci in italiano e per espandere il tuo vocabolario. Sto per leggerti un breve racconto, un racconto di viaggio di Paolino. Ovviamente è stato un viaggio molto travagliato e all'interno di questa storia ho inserito del lessico particolare che ti aiuterà a raccontare un viaggio in modo più naturale e anche più avanzato magari. Anche per questo video ho preparato un documento pdf per te con la storia che sto per raccontarti e il lessico spiegato e usato in contesto, così potrai esercitarti da subito con le nuove parole che imparerai. Faremo anche un piccolo esercizio oggi, quindi rimani con me. Ti racconto il difficile viaggio di ritorno dall'Australia di Paolino. Che cosa sarà successo a questo poveretto ancora? Per il momento concentrati sugli eventi e sul contenuto generale del racconto. Inizio a leggere. Era il 30 aprile del 2011 e Paolino si trovava all'aeroporto di Sydney. I problemi sono iniziati subito. Il bagaglio a mano di Paolino era troppo ingombrante. Lo aveva comprato a Melbourne, ma non era un vero bagaglio a mano. E il bagaglio da stiva pesava tre chili oltre il limite consentito. Insomma, ha dovuto comprare un bagaglio a mano più piccolo e trasferire tutte le sue cose da quello vecchio a quello nuovo e ha dovuto indossare tre maglioni e due paglia di pantaloni per alleggerire la valigia da imbarcare. Primo problema risolto. Si è imbarcato sull'aereo anche se stava morendo di caldo con tutti quei vestiti addosso. Lo stai già immaginando, vero? Sì, anch'io. L'aereo è decollato con 45 minuti di ritardo a causa di un problema tecnico. Ma è atterrato a Singapore in orario perché il pilota ha recuperato il ritardo lungo il tragitto. A Singapore Paolino ha fatto scalo per poi prendere un altro volo per Dubai, dove ha fatto un secondo scalo. E finalmente è arrivato a Milano-Malpensa, 47 ore dopo. Era cotto e affamato. Voleva mangiare qualcosa, ma il bar dell'aeroporto non accettava pagamenti con bancomat o carte di credito per importi inferiori ai 20 euro. Così ha dovuto cercare uno sportello automatico e prelevare dei soldi. Ha prelevato, si è mangiato un bel panino, si è bevuto un caffè ed è andato in edicola per comprare un giornale da leggere sul treno verso Ferrara. L'edicolante l'ha guardato e gli ha detto, non hai 5 euro? Con 20 euro non riesco a darti il resto. Paolino lo guarda sconsolato, aveva solo banconote da 20 e da 50 euro. Quindi è tornato al bar per scambiare i 20 euro. Così ha potuto comprare il suo tanto desiderato giornale. Il viaggio di ritorno di Paolino è stato un'odissea, ma i problemi non erano finiti. Anche durante il viaggio in treno sono successi degli imprevisti, ma te lo racconterò in un altro video. Bene, il viaggio di Paolino è stato un'odissea. Che cosa significa un'odissea in questo caso? Il viaggio di Paolino è stato un'odissea. Il riferimento è l'opera di Omero, no? Quindi, quando qualcosa è un'odissea, può essere un viaggio, un percorso, un progetto, un'attività, è qualcosa che ha una durata più o meno lunga, ma qualcosa ricco di ostacoli e di difficoltà. È un'odissea pieno di ostacoli. Che cosa faremo adesso? Ti mostrerò delle immagini, queste sono le immagini, e leggerò nuovamente la storia di Paolino. Quello che dovrai fare è associare ogni immagine alla parola corretta. In alcuni casi si tratta di un verbo, in altri casi di un sostantivo. Ascolta di nuovo la storia e trova le parole che corrispondono a queste immagini. Era il 30 aprile del 2011 e Paolino si trovava all'aeroporto di Sydney. I problemi sono iniziati subito. Il bagaglio a mano di Paolino era troppo ingombrante. Lo aveva comprato a Melbourne, ma non era un vero bagaglio a mano. E il bagaglio da stiva pesava tre chili oltre il limite consentito. Insomma, ha dovuto comprare un bagaglio a mano più piccolo e trasferire tutte le sue cose da quello vecchio a quello nuovo, e ha dovuto indossare tre maglioni e due paglia di pantaloni per alleggerire la valigia da imbarcare. Primo problema risolto. Si è imbarcato sull'aereo, anche se stava morendo di caldo con tutti quei vestiti addosso. Lo stai già immaginando, vero? Sì, anch'io. L'aereo è decollato con 45 minuti di ritardo, a causa di un problema tecnico. Ma è atterrato a Singapore in orario, perché il pilota ha recuperato il ritardo lungo il tragitto. A Singapore Paolino ha fatto scalo per poi prendere un altro volo per Dubai, dove ha fatto un secondo scalo. E finalmente è arrivato a Milano, Malpensa, 47 ore dopo. Era cotto e affamato. Voleva mangiare qualcosa, ma il bar dell'aeroporto non accettava pagamenti con bancomat o carte di credito per importi inferiori ai 20 euro. Così ha dovuto cercare uno sportello automatico e prelevare dei soldi. Ha prelevato, si è mangiato un bel panino, si è bevuto un caffè ed è andato in edicola per comprare un giornale da leggere sul treno verso Ferrara. L'edicolante l'ha guardato e gli ha detto, non hai 5 euro? Con 20 euro non riesco a darti il resto. Paolino lo guarda sconsolato. Aveva solo banconote da 20 euro e da 50 euro. Torna al bar, prende un secondo caffè per scambiare i 20 euro, così ha potuto comprare il suo tanto desiderato giornale. Il viaggio di ritorno di Paolino è stato un'odissea, ma i problemi non erano finiti. Anche durante il viaggio in treno sono successi degli imprevisti, ma te lo racconterò in un altro video. Bene, quale parola hai associato a questa immagine? Imbarcarsi, che significa salire su un aereo o su una nave, è un verbo pronominale con il pronome SI. Paolino si è imbarcato. Ricordati che con i verbi pronominali che includono la particella SI, l'ausiliare è sempre essere. Paolino si è imbarcato sull'aereo. I passeggeri del volo per Roma si stanno imbarcando in questo momento. Esiste anche il verbo imbarcare. Non è pronominale, ma è transitivo, quindi imbarcare qualcosa. La compagnia aerea imbarca i passeggeri. Li fa salire, ma i passeggeri si imbarcano. Imbarcare un bagaglio e così via. E questa immagine? Quando l'aereo parte, sale verso il cielo? Decollare. Che significa partire, prendere il volo. L'aereo decollerà con 15 minuti di ritardo. O l'aereo è decollato con 15 minuti di ritardo. Ma molto spesso anche le persone decollano. È molto comune sentire frasi come finalmente siamo decollati, che significa il nostro aereo è decollato. E quando invece l'aereo arriva a destinazione, all'aeroporto di destinazione? Atterrare. Oh, l'aereo è atterrato! La zia sta arrivando! Anche in questo caso possiamo dire la zia è atterrata. Arriverà tra cinque minuti, qui fuori dall'aeroporto. decollare, atterrare. E come si chiama questo bagaglio che possiamo portare sull'aereo? Il bagaglio a mano. Il bagaglio a mano di Paolino è troppo grande e non entra nella cappelliera. La cappelliera è quella parte in cui inseriamo le borse e i bagagli a mano sull'aereo. Il bagaglio a mano è troppo grande. E invece il bagaglio più grande, quello che dobbiamo imbarcare sull'aereo, è un bagaglio da stiva o da imbarcare, perché lo imbarchiamo. Il bagaglio da stiva di Paolino pesava tre chili oltre il limite. Ha dovuto svuotare il bagaglio da stiva. Piccola integrazione perché mi ero dimenticato un'espressione importante. Quale parola o espressione hai associato a questa immagine? Quando l'aereo fa una o più fermate lungo il tragitto, lungo il viaggio. Lo scalo. Lo scalo è proprio una fermata dell'aereo, in questo caso, durante un viaggio, per cambiare volo o per altre necessità tecniche, per esempio. E l'espressione è fare scalo. Paolino ha fatto scalo a Singapore e a Dubai, prima di arrivare a Milano. Quindi il suo volo prevedeva due scali. Quando è arrivato a Milano, Paolino era affamato, aveva una fame atroce, ma non aveva soldi incontanti, e quindi è dovuto andare dove? Per fare cosa? È andato allo sportello automatico, o semplicemente bancomat, per prelevare dei soldi. Prelevare i soldi significa ritirare dei soldi da un bancomat, da uno sportello automatico. Mi fermo al bancomat per prelevare. Arrivo! Preleviamo un po' di soldi perché domani dobbiamo pagare l'abbonamento in palestra. Poi Paolino nel portafoglio aveva soltanto delle banconote da 20 o da 50 euro e voleva assolutamente comprarsi un giornale. Ma il giornale costa un euro e mezzo, un euro e 70 e l'edicolante aveva problemi a dargli il resto con delle banconote così grandi. Situazione assurda, gli edicolanti hanno il resto generalmente. E quindi Paolino è dovuto tornare al bar per fare che cosa? Scambiare i soldi. Scambiare i soldi significa cambiare una banconota con altre banconote o monete di valore inferiore. Probabilmente Paolino ha dato al cassiere o alla cassiera del bar una banconota da 50 euro e ha ricevuto due banconote da 20 e una da 10 o 5 banconote da 10, ma ha scambiato 50 euro. E avrà chiesto, scusi, ha da scambiare 50 euro per favore? Ho bisogno di scambiare 50 euro con 5 pezzi da 10. In questo caso pezzi significa banconote. Ultima espressione interessante. Dopo questo viaggio, che è stato un'odissea, Paolino era cotto. Che cosa significa essere cotto? Semplice, no? Era stanco, distrutto. In questo caso ovviamente parliamo di un'espressione idiomatica. Paolino era cotto, stanco morto, distrutto. Bene, quante di queste parole conoscevi già? Questo era un esercizio per aiutarti a ripassare o espandere il tuo lessico nell'ambito dei viaggi. Così la prossima volta che racconterai un tuo viaggio in italiano potrai usare queste parole ed espressioni nuove. Fammi sapere se questo video ti è stato utile e se vuoi crea delle frasi anche con il lessico nuovo. Ricordati di scaricare il pdf al link che trovi nella descrizione qui sotto. Grazie a tutti. Ciao! Grazie a tutti.